è arrivata la conferma carlo conti condurrà il prossimo festival di sanremo il primo dell'era post amadeus come annunciato nel tg1 mattutino la decisione presa all'unanimità dai vertici aziendali della rai vedrà conti guidare il festival per i prossimi due anni non è solo un ritorno per lui ma una nuova sfida per promuovere e valorizzare le nuove tendenze musicali come fece con successo dal 2014 al 2016 conti è già al lavoro per preparare un festival ricco di sorprese e novità non sarà facile per conti dato l'apprezzamento e il successo delle recenti edizioni condotte da amadeus la sfida sarà mantenere alto il livello senza far rimpiangere il predecessore